Stato a facendo regia Stato a facendo regia Pronto? Pronto? Non c'è campo Che ti è parettato il cuore Pronto? Chi parla? Pronto? Senti Sì Non te ti parla? Sono Maurizio Ma chi cerca? Con chi vuol parlare lei? Curi? Volevo parlare con Catatenti Sì, è senso Catatenti infatti C'è tu chi è? Pronto? Tenti? Tenti? Gli essensi? Sì, ho capito Sono Maurizio Cazzo di nome è Maurizio? Maurizio Vottanto Vottanto dei tuoi giunfoli Io stavo a me a dormire Pronto? E tu mi chiami a quest'ora Che vuoi? Ti volevo dire Che Tabato Tabato? Tabato Poi si dice così? Tabato Non è lì ma te dimmi Quei Tabato Vabbè Devo dire che è Tabato C'è Maria Che fate? Una protezione? No Che è la protezione? C'è Maria Ore 21 Canale 5 Ore 21 Canale 5 Che fa Te fa Te fa c'ha 59 anni vabbè senti senti non puoi dire bene sto nome senti che sono le 10 io dovevo andare a dormire a quell'ora? io dovevo dormire quando cazzo mi pare ho finito il motemagnale leggero, due bucatini alla matriciana pollo con faccioli scottatito arrosto di vitello messicani e una bruschetta io non posso mangiare tanto prima di andare a dormire se no non mi dormo in grasso, capito? ho capito, vabbè ma non ti cazzare devo andare a dormire, capito? vabbè ti saluto Franco ciao non mi chiamo più a quest'ora vabbè ti ho chiamato per l'amicizia che abbiamo noi ti volevo dire l'ultima cosa Franco, qual è pera? e vabbè che fai mi pire per cuore? ma che sto piavendo è che io buonanotte buonanotte se chiude qui Maurizio votante ciò